leggendo qua e là nella rete e guardando video su diversi canali social a parte qualche buffone che tende a ridicolizzare tutti coloro che sono vittime della società torre di guardia vittime di questa setta a parte qualche buffone che non è all'altezza di comprendere cosa significa essere vessati per anni e per decenni a parte qualche buffone che cerca di fare visualizzazioni ed intrattenere un sedicente pubblico parlando di cose che in realtà non conosce e che non ha mai vissuto sulla propria pelle ecco fatta questa premessa se vince però che in realtà vi sono troppi ex testimoni di geova traumatizzati effettivamente dalla società torre di guardia dalla loro esperienza avuta all'interno con i testimoni di geova a motivo di ciò che per anni hanno senz'altro dovuto subire loro stessi e i propri familiari vessazioni false speranze abusi essere signoreggiati da chi fintamente si propone come pastore amorevole è una frode un inganno essere in continuazione oggetto di giudizio da parte di chi si dichiara fratello amorevole logora un grande dispendio di energie sia fisiche che economiche visto che la società torre di guardia richiama spesso troppo spesso i suoi associati a continue e regolare apporto di denaro nelle varie cassette di contribuzioni disseminate solitamente nei loro luoghi di raduno l'idea che questa associazione americana questa setta sia potente invincibile una molti la descrivono come una piovra mafiosa massonica minacciosa punitiva si è installata come uno schema nella mente di molti di noi nella mente debole di molti fuoriusciti limitando appunto la libertà e l'esistenza persino anche quando ormai non si fa più parte di questa setta a voi a voi voglio rivolgermi voglio dire la vostra percezione prendetene atto la vostra percezione è alterata siete spaventati non state vedendo le cose come realmente per come realmente sono la società torre di guardia non è una montagna impossibile da smuovere come la descrivono alcuni è semplicemente un grosso cartone o per meglio dire una grossa piramide una piramide massonica ma una grossa piramide di cartone vuota all'interno non c'è nulla certo non si vede chi osserva dall'esterno vede la vede come qualcosa di sostanzioso come qualcosa di concreto come qualcosa di solido in realtà chi vi è stato dentro sa che le ideologie gli insegnamenti tutto ciò che passa attraverso questa piramide di cartone la rende vuota la società torre di guardia è fondata sul marketing è strategia è tattica la società torre di guardia è fuffa è fondata sul nulla pone le sue basi sulla sabbia tant'è vero che deve ricorrere troppo spesso al ricatto morale all'ostracismo al terrore psicologico per trattenere i suoi soci aderenti il terrore l'uso del terrore l'uso della paura è la forza dei deboli la società torre di guardia è debole una domanda ma cosa può farvi l'uomo ormai siete fuori dalla setta non siete più soggetti a riprensioni nell'angolo in seconda sala segnature visite pastorali comitati giudiziari tutto questo fa parte del vostro passato tutti questi meccanismi di controllo e di terrore psicologico non possono più essere adoperati nei vostri confronti perché continuate a temere il massimo che vi può capitare è scontrarvi con un qualche fanatico fondamentalista testimone di geova servo di questa società torre di guardia capace di esprimersi solo in geovese passando e pensando di essere pensando di essere astuto scaltro convincetevi del fatto che in realtà sono solo dei cialtroni fondamentalisti schierati politicamente con il metodo teocratico come chi vuole utilizzare la sciaria come quegli stati in cui utilizzano la sciaria che sono stati teocratici sono contro la democrazia prendetene atto le ideologie della torre di guardia sono contro la democrazia contro le costituzioni nazionali degli stati a cui noi apparteniamo noi non apparteniamo a un'associazione americana noi siamo italiani noi dobbiamo dare conto alle legge italiana alla costituzione italiana non dobbiamo dare conto alle disposizioni di un'associazione e di una setta americana anzi sono loro che devono dare conto alla legge italiana loro devono dare conto alla costituzione alla nostra legge noi ora proprio a questa legge proprio alla costituzione con metodo teocratico cioè scusate con metodo democratico con soprattutto con metodo e con tattica noi ora ci appelleremo esattamente alla costituzione italiana richiamando la costituzione stessa e le leggi le nostre leggi leggi che leggi sono quelle legittime che regolamentano la nostra esistenza obbligheremo per cui a a prestare attenzione alla a coloro che sono i gestori della nostra legge a quello che avviene segretamente e astutamente all'interno nelle 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 sedi più interne di questa associazione noi utilizzeremo lo stesso metodo a cui siamo stati addestrati proprio da questa organizzazione quando andavamo porta per porta a propagandare e a diffondere attraverso falsi allarmi sociali le ideologie riguardanti una fine imminente non temeteli non temete questa associazione sono guide cieche privi di intendimento e di capacità di giudizio pretendono di amministrare pensate un po la vita degli altri prendendo spunti da testi il vecchio testamento testi mitologici ad arcaici imitando culture patriarcali farcite di razzismo guerre etniche sessismo tutti principi e ideali superati già da molto tempo che violano però diritti umani fondamentali basati sull'eguaglianza e sul rispetto per la diversità non temeteli non date loro importanza importanza che non hanno non gonfiate la loro falsa identità con inutili paure rese da racconti mitologici e dai nostri traumi siate artefici del vostro futuro con coraggio e soprattutto amor proprio mettetevi una cosa in testa se dio dovesse esistere se un dio esiste non darebbe mai a nessuna organizzazione umana il controllo della vostra spiritualità e neppure la gestione delle vostre vite egli darebbe a ciascuno di noi la possibilità di avere un rapporto con lui diretto e unico senza passare dalle dogane inventate da falsi schemi di un popolo di dio di uno schiavo fedele e discreto e di e di uno schiavo che dovrebbe amministrare appunto questo fantomatico cibo spirituale se è vero che un dio esiste e ha lasciato scritto un libro una guida per i suoi servitori ebbene tutto dovrebbe passare attraverso questo fantomatico libro e non attraverso altre pubblicazioni che dicono tutt'altro e che vanno a interpretare questo che questo fantomatico libro dio tutto questo dio questo dio di amore non permetterebbe tutto questo non permetterebbe equivoci non permetterebbe vessazioni e errori umani creati all'interno di associazioni di questo tipo se un dio dovesse esistere ora se un dio dovesse esistere tutto questo non lo permetterebbe tanto più di certo non lo permetterebbe a un'associazione americana questo potrebbe avvenire mai rifletteteci pensateci pensate qual è la vostra idea di dio un dio che non vuole avere a che fare con voi che delega altri uomini a gestire le vostre vite ovviamente questi sono schemi falsi schemi che vanno demoliti in ogni caso in ogni caso aspettatevi presto azioni più importanti la cui vi terrò informati e che ci permetteranno senz'altro di richiamare l'attenzione delle istituzioni a tutto questo che da troppo tempo avviene sul nostro territorio alla prossima grazie a tutti